allora un altro tipo di vivagno cioè di bordo laterale di lavorazione particolare del bordo laterale è il vivagno a catenella allora come vi ho detto io prima ho fatto un tutorial per vedere come fare il vivagno perlato in pratica il vivagno è questa parte qui del lavoro che rimane esterna che a seconda di quello che noi dobbiamo fare con il nostro lavoro richiede una lavorazione particolare perché lavorandola normalmente con il lavoro cioè come se fosse una normale maglia del lavoro il risultato è spesso molto disordinato è spesso largo insomma è brutto da vedere quindi ci sono delle tecniche particolari per poter appunto fare questi bordi più carini da vedere più ordinati questa che vi faccio vedere ora il vivagno a catenella che si può fare in due modi diversi allora vedete il risultato è questa bellissima catenella che si vede quindi viene un risultato molto pulito quindi è perfetto sia per le lavorazioni dove il bordo rimarrà comunque a vista sia per le lavorazioni dove il bordo dovrà essere rifinito come vi ho fatto prima in un tutorial dei profili normalmente quando si riprende un profilo verticale di un lavoro si prende una maglia ogni due quindi si dovrebbe prendere queste piccole magliettine qui una sì e una no in questo modo facendo il bordo a catenella il vivagno a catenella queste abbiamo già delle maglie perfette quindi molto facili vedete da riprendere sia ai ferri che a uncinetto e che sono già una ogni due quindi vedete ognuna di queste v corrisponde a due giri di di ferri quindi è già pronto è molto più semplice da recuperare nel caso appunto che dovesse dobbiamo recuperare le maglie inoltre vedete è anche un lavoro un bordo veramente più carino da vedere e più ordinato nel caso che dà se lasciata a vista come si fa allora per fare il bordo il vivagno a catenella si fa così sono due tecniche io vi faccio vedere intanto una e poi l'altra allora una consiste nel far passare sempre la prima maglia a rovescio senza lavorarla e lavorare a dritto l'ultima un'altra tecnica invece è al contrario cioè si lavora a dritto ritorto la prima e si passa a rovescio l'ultima quindi io ve le farò vedere tutte e due i modi questi il primo vi farò quello di passare la maglia a rovescio quindi filo sempre verso di me prendo la maglia la prima maglia del lavoro come per fare vedete un rovescio ma non la lavoro al rovescio la passo e basta tiro bene il filo dopo di che io continuo normalmente la mia lavorazione che in questo caso è un dritto la prossima maglia quindi io quindi passo dietro il filo e faccio i miei dritti normalmente sul mio lavoro come se lavorassi dei normalissimi dritti quindi lavorerò tutti i punti che io nel mio lavoro fino all'ultima maglia e l'ultima maglia qualunque sia il tipo di la tipo di lavorazione che io sto facendo andrà comunque sempre lavorata a dritto quindi io l'ultima maglia io adesso già il filo dietro perché sono sul dritto del lavoro faccio un normale dritto quindi qui l'acqua chiudo normalmente a dritto giro il lavoro adesso io la devo passare al rovescio quindi filo sempre verso di me prendo la maglia a rovescio e la passo senza lavorare adesso io ho un rovescio quindi rimango col filo di qua facendo in questo modo vedete il bordo qui viene un pochino più largo vedete queste catenelle sono un po più grosse proprio perché rimanendo su questo lato si tira meno il lavoro è difficile tenerlo in tirare quando si rimane su questo lato potete tirare bene finché volete ma rimarranno sempre un pochino più lenti perché io l'ho passata al rovescio e ora la lavoro al rovescio quindi un po più lente rimarrà comunque quindi tiratela più che potete questa maglia qui dovete proprio tirare forte in modo da stringerla il più possibile e rimarrà comunque sempre più lenta dell'altra proprio perché non giriamo il filo attorno come in questo caso vedete io adesso passo il filo dietro perché l'ultima la devo fare a dritto quindi ho finito i miei rovesci passo il filo dietro e faccio il mio dritto l'ultima maglia la faccio a dritto giro il lavoro ancora vedete quindi io il filo a questo punto lo ripasso verso di me perché devo prendere a rovescio col filo sempre verso di me e passo poi il filo dietro per fare il dritto facendo questo passaggio io stringo già la maglia quindi da questo lato qui mi verrà molto più ordinata vedete viene più la catenella viene molto più stretta e ordinata rispetto all'altro lato e questo purtroppo nel caso di maglia rasata è una cosa da prendere in considerazione appunto eventualmente facendoci un bordino facendo lavorando l'ultima maglia a dritto questo però ecco lo valuterete voi magari facendo anche delle prove quindi io questo l'ultima sono già sul dritto la lavoro normalmente a dritto vedete adesso uguale giro il lavoro lo faccio per l'ultima volta passo il filo tiro bene questo filo lo passo verso di me prendo la maglia a rovescio tiro ancora bene forte ma non serve a molto purtroppo e lavoro questa maglia qui e continuo quindi il mio giro a rovescio vedete io ho tirato proprio forte però vedete la maglia rimane comunque larga non è proprio questo tipo di lavorazione che la lascia così non c'è non ci possiamo fare molto quindi uno al limite a fare delle prove vi faccio vedere giusto come fare a realizzare questo tipo di costolino però poi dovrete fare voi delle prove ecco a questo punto passo il filo dietro e faccio a dritto l'ultima ecco fatto vedete quindi io ho ottenuto questa bella catenella questo è il mio bordo catenella di qua e questa catenella purtroppo un pochino più larga su quest'altro lato del lavoro e questa è la prima tecnica per farla un'altra tecnica per fare il punto catenella è di lavorare allora facciamo la prima maglia a dritto ritorto quindi io mi tengo il filo dietro il mio lavoro entro dietro vedete e prende il filo da dietro questo è il nostro dritto ritorto quindi io lavoro a dritto ritorto la prima maglia o un tutorial apposta per il dritto ritorto se avete difficoltà potete guardarlo ok quindi io adesso continuo a dritto tutte le mie maglie ora nella prima ovviamente qui verrà un nodino perché adesso abbiamo cambiato tipo di lavorazione ma se la iniziamo dall'inizio ovviamente poi verrà tutta una catenella unica senza nodini quindi arrivo fino all'ultima e l'ultima passo il filo verso di me e la prendo a rovescio lasciando il filo da questa parte giro il mio lavoro il filo è già dietro e lavoro questa maglia a dritto ritorto anche questo tipo di lavorazione un pochino di più la stringe ma mai troppo perché poi tornando di qua vedete comunque rimarrà un po lenta tiriamo la bene e lavoriamo a dritto quindi ho fatto un dritto ritorto dopodiché io mi lavoro a rovescio questo giro come al solito come l'avrei dovuto lavorare quindi la lavoro normalmente tutto a rovescio e l'ultima lascio il filo verso di me la prendo a rovescio sempre e la passo e il filo rimane da questa parte giro il lavoro ancora e quindi qui faccio il mio dritto ritorto entro quindi dietro prendo il filo e lo tiro su e scarico la maglia tiro bene e lavoro a dritto ancora tutto il mio ferro normalmente quindi lavoro la prima dritto ritorto e l'ultima ancora una volta la passerò a rovescio senza lavorare passando fate sempre attenzione al filo passando il filo verso di me quando passiamo le maglie a rovescio il filo sempre verso di noi come se la maglia fosse lavorata normalmente a rovescio ok quindi io adesso sono sul mio rovescio e qui ancora lavorerò la prima maglia a dritto ritorto la faccio passare la stringo bene passo il filo e lavoro a rovescio quindi qui perché ho le mie maglie a rovescio questo tipo di punto forse un pochino di più stringe anche questo lato qui delle però vedete non non bene come da questa parte purtroppo perché proprio è la lavorazione a rovescio che lo rende così quindi io lavoro tutto a rovescio e l'ultima la passo a rovescio sempre il filo verso di me e l'ultima passata senza essere lavorata ecco e qui continuo quindi un dritto ritorto la prima maglia la tiro bene vedete qui passo a rovescio ecco qua vedete per farvi vedere il bordo vedete viene anche qui queste catenelline qui questo è il nodo dove ho cambiato tipo di lavorazione vedete come c'erano prima queste fila di catenelle ci sono adesso la lavorazione è uguale c'è il risultato dello stesso più o meno